tempo fa ho visitato la fiera del cioccolato a perugia e oggi voglio condividere con voi alcune immagini che ho fatto lì tutto quello che vedete è fatto in cioccolato guardate che bel baffone di cioccolato da legarsi i baffi letteralmente guardate questi attrezzi sembrano cacciaviti e martelli arrugginiti invece è tutta cioccolata non sono bellissimi ora vi lascio ammirare altre bontà tutte tutte fatte con cioccolato grazie a tutti vi ringrazio per aver visto il video e ci rivediamo presto ciao ciao